In 1960 erano ancora gli anni non del boom economico, c'era ancora parecchia carestia nelle famiglie, la mia famiglia era numerosa, quattro figli, io ero il più grande e penso che la segnalazione del prete che conosceva lo stato della famiglia ha fatto sì che io entrasse in Piaggio. Sono stato segnalato e sono stato entrato in Piaggio nel 1960. Sono entrato in un reparto che era un po' l'elite dall'ora della Piaggio, che era un reparto che faceva, non come catena di montaggio, però una cosa molto più leggera, faceva una parte di un velivolo nato, il G91 che aveva vinto il concorso l'anno prima, la faceva una parte della Fiat aeronautica e la parte di coda, diciamo, la parte di Garlinga e tutti gli impennaggi di coda li facevamo alla Piaggio. Con un'elite di operai che tra l'altro i più tanti sono diventati campi reparti negli anni futuri, pertanto gente che aveva avuto un'esperienza lavorativa un po' tecnologicamente più alta e che però, come loro si usava, chi aveva gambe camminava nella ditta, al di là del diploma, della laurea, dello studio, chi sapeva andava avanti. Ecco, questo è stato un po', dopo finita quella lavorazione, sono andato in un altro reparto e posso dire che dovevo essere il premio delle mie capacità, visto che invece era una veramente catena di montaggio, mi sono ribellato, mi buttavano delle cassette di palette dei motori delle reazioni e io dovevo fare con una macchina fresa, fare una piccola lavorazione, fatto una cassetta ne buttavano due, fatto ne due ne buttavano quattro, dopo un mese mi sono ribellato, ho detto a chi mi aveva chiamato e lusingato, ho detto se quello è il premio, io me ne vado, cerco un altro lavoro e allora mi ho messo in un altro reparto dove ho trovato una persona che nel suo lavoro mi ha ampiamente illustrato, anzi delle volte mi faceva fare il lavoro da solo, eccetera, eccetera e poi sono effettivamente andato negli uffici, che doveva essere il primo, di due anni prima almeno. La cooperativa, le dico subito, Finale è stato uno degli ultimi cittadini che non aveva i supermercati dove i commercianti avevano forse i prezzi dei beni di prima necessità più alti di tutto il Savonese. La Piaggio ha fatto una nuova mensa, aveva fatto una nuova mensa, di nuovi locali e c'erano i locali della vecchia mensa, diciamo, vuoti. Qualcaduno ha avuto, io dico, la giusta l'idea di chiedere alla Piaggio in una fase di tentativa, di avere i locali ad uso, diciamo, senza canone e anzi per i primi anni avevamo anche un contributo, abbiamo avuto un contributo per l'arredamento e anche un contributo fisso per l'anno. Chiaramente ai primi tempi chi era nel Consiglio, io ero nel Collegio Sindacale, ma che però lavoravamo 12-13 non ci voleva tanto, però un dipendente fisso ci voleva perché quando il materiale arrivava diciamo ci doveva essere qualcuno sempre pronto, ma allora anche le ditte che ci fornivano mettevano la loro manodopera, non è che scarichavano lì, mettevano la loro manodopera. Poi abbiamo preso un dipendente scelto con criteri, anche con molta calma, però il primo dipendente è stato anche una vera forza di quella cooperativa e col tempo la cooperativa ha prosperato e ha allargato, diciamo, le questioni delle merci, poi faceva anche offerte di stock, mi ricordo che abbiamo adottato anche Montoni, Giacconi, però ha funzionato per alcuni anni bene, nel frattempo è successo che al finale si è dotato delle strutture concorrenziali, tre o quattro supermercati, che cosa è successo? Che col tempo i prezzi che sono competitivi, allora io penso, io sono uscito, la cooperativa ha chiuso dopo, ma chiaramente non c'era più concorrenza e convenienza, è morta per quello penso, non certamente perché la Piaggio non gestiva più, la cooperativa penso che l'indipendente Piaggio per parecchi anni è stata un piccolo stipendio in più. Guardi, io ho fatto un corso qualità, la Piaggio allora distribuiva 10 miliardi, io penso che al finale c'erano su 1200 dipendenti 480 finalesi, poi però c'erano tutti quelli del comprensorio finalese, che prendeva da Calizzano fino a Loano, Albenga e di qua fino a Savone, io ho avuto colleghi savonesi quando erano impiegati e pertanto sul territorio i soldi arrivavano perché la Piaggio pagava e pertanto io credo che la Piaggio finale sia un danno che non ci sia più, lo stabilimento di adesso non può stare così com'è perché è una zona di degrado, come diventata e credo che deve esserci una ristrutturazione che non deve essere una cementificazione, però non si può pretendere che uno in questo momento di crisi abbastanza, ed ha frenato questo, della famosa crisi immobiliare eccetera eccetera, ha frenato il progetto perché chi è che va a costruire centinaia di appartamenti quando ci sono già centinaia di case in vendita a finale, però la zona ristrutturata con un minimo di, come ho visto, potrebbe essere anche forse meglio, non conosco più l'ultimo progetto, avevo visto i primi, però non era una cosa, con fronte adesso io credo che vedo un degrado, io quando ci passo lo vedo dal mare, ci passo a destra, ci passo a sinistra, vedo che i tenti vengono giù, la parte è bruciata, ecco deve finire questa storia, io vedrei volentieri una ristrutturazione compatibile, erano previsti parcheggi, sono previsti giardini, l'angal era previsto salvato, io credo che al degrado io preferirei una ristrutturazione compatibile e condivisa più possibile da tutti.